Abbiamo parlato dei consorsi di bonifica, è il tempo e il momento delle audizioni ma è emerso anche in questa occasione che per quanto riguarda quest'ente così importante per il settore primario, per gli imprenditori agricoli, per le istituzioni in generale la volontà dell'Aggiunta Lente è quella di presentare una finta riforma che in realtà vuole semplicemente espropriare agli agricoltori i consorsi commissariando i consorsi stessi. Voglio soltanto ricordare infine che la Regione non mette soldi sui consorsi ma in questo caso pur mettendoceli appunto il mondo dell'agricoltura e in particolar modo gli agricoltori e gli imprenditori agricoli se ne appropria facendo un commissariamento forzato. Dopo otto mesi l'Aggiunta Lenta si occupa ancora di poltrone e nomine.